Cinque persone sono indagate nell'ambito dell'inchiesta su presunte collusioni tra il clan Polverino e la politica locale nel comune di quarto. Tra gli indagati spiccano un consigliere comunale, un dirigente dell'ufficio tecnico del comune e due imprenditori locali. I carabinieri dopo aver avuto un lungo colloquio con il sindaco nel suo ufficio in comune hanno poi perquisito lo stesso ufficio, l'abitazione e l'ufficio privato dove svolge abitualmente la sua attività ma il primo cittadino non risulta indagato. Perquisite anche le abitazioni e gli uffici delle altre persone indagate. I carabinieri si sono recati anche nell'ufficio tecnico comunale dove hanno acquisito alcune pratiche relative ad autorizzazioni rilasciate negli ultimi anni dalle amministrazioni che si sono succedute alla guida della cittadina.